Il dolore alla spalla notturno è spesso causato da un disturbo dei tendini della cuffia dei rotatori. Questo perché durante il riposo i muscoli che mantengono in posizione corretta l'omero si rilassano e quindi creano un maggior stretching a questi tendini. Adesso vediamo insieme alcuni esercizi per alleviare questo dolore. Ci mettiamo sdraiati in posizione prona, allunghiamo il braccio a livello della spalla creando un angolo di 90 gradi e con l'altro braccio creiamo una leggera torsione cercando di andare a tendere il piccolo pettorale. Sentirete una piccola tensione, non esagerate, mantenete 20 secondi e tornate. Questo esercizio potete farlo un paio di volte. Dopodiché li mettete in posizione laterale, prendete un piccolo pesetto, iniziate con mezzo chilo per poi aumentare se ce ne sarà bisogno. Portiamo il braccio a 90 gradi, cercate di non sollevare il gomito durante l'esecuzione dell'esercizio, sennò vi aiutate con un piccolo asciugamano sotto il gomito. Dopodiché portate giù e su, semplicemente. Ripetete per almeno 15 volte, poi riposate per 30 secondi e lo rifate. Non dovete arrivare alla fine dell'esercizio col braccio distrutto, stanco sì ma non distrutto, anche perché poi potreste sentire del fastidio e dell'indolenzimento durante la giornata o durante le vostre attività quotidiane.